Buongiorno a tutti i telespettatori di Telegarda, ci troviamo alla rotatoria di Bolognano dove questa mattina alle 9 c'è uno strano posto di blocco proprio qua sul confine con la Repubblica di Vignole stanno distribuendo dei cartelli alquanto strani con scritto controllo a 100 metri, esibire alla dogana e vogliamo scoprire un attimo cosa sta succedendo, andiamo ad intervistare i due interessati Siamo proprio qua sul confine tra Arco e la Repubblica di Vignole, ma cosa state facendo? Finalmente abbiamo deciso di rendere concreto, pratico il confine di una Repubblica che ha diritto ad essere indipendente, libera, autonoma nonostante tante promesse al vento dei politici nazionali e anche provinciali Ma prima era presente anche il Presidente che però ha abbandonato, cosa è successo? Ha abdicato oppure cosa è successo? No, problemi di Repubblica nel senso che anch'io fra un po' dovrò partire perché abbiamo un Consiglio dei Ministri straordinario oggi per decidere quali azioni fare dopo questa azione dimostrativa per finalmente uscire dall'anonimato e vedere garantiti i nostri diritti State distribuendo questi volantini che c'è un controllo esibile alla dogana, passaporto? Sì esatto, cioè qui a 100 metri ci sarà il nostro corpo di guardia che controllerà la validità dei documenti di passaggio, di transito per i non residenti evidentemente nella Repubblica di Vignole Ok, e che giorno è oggi? Mercoledì E di numero? Uno Di? Aprile, vabbè, ma non è una coincidenza, non c'è niente, noi avevamo stabilito ancora l'anno scorso, proprio il primo aprile del 2014 che un anno dopo avremmo tirato le somme di questa nascita della Repubblica purtroppo abbiamo dovuto fare questa azione dimostrativa, provocatoria ma nulla a che fare con il pesce d'aprile evidentemente Ci troviamo con Beppi Paia e il Ministro degli Interni della Repubblica per so conto di Vignole ha qualcosa da dichiarare? Beh, ma mi sembra che ultimamente sia un po' latitante il Presidente e non riesco a capire il perché, poi è meglio che parlate in dialetto, no? Presidente, il Vamassa Biceri E possiamo trovare un rimedio a questo problema? Sì, cambiare Presidente è l'unica, come in Italia anche in Vignole ormai l'andazzole è quello